E si è conclusa all'Aquila la prima tappa dell'Open Nazionale Maschile di Tennis Tour 2021 a Elava Abruzzo con la finale tra l'aquilano Andrea Picchione e il romano Federico Salomone con la vittoria di Picchione per 6-2-6-2. Il tour ora si sposta ad Ortona dove è già in corso il tabellone di quarta categoria. E' stata assegnata la prima wild card per il tabellone maschile 11-18 luglio dell'Aquila al tennista Andrea Picchione. Successo per questa manifestazione sportiva che ha riportato il grande tennis nel capoluogo di regione. Torneremo ad occuparci ancora di questo evento.